Diablo 4 sembra essere morto per la gente, per la community, tantissimi di noi, purtroppo a me compreso, sono rimasti delusi, non tanto dal gioco in sé, dal gioco base, il gioco base secondo me è molto divertente, è un ottimo punto di partenza per tante cose, ma quanto per l'arrivo della season, per la velocità con la quale peggiorano l'esperienza di gioco anziché migliorarla, e per la velocità e per il modo in cui si atteggiano nei confronti secondo me di una community che gli sta chiedendo una sorta di aiuto per un gioco che comunque alla fine della fiera piace, ma loro cercano sempre scuse anziché dire ok raga facciamo come volete voi, è per voi il gioco, non lo so questa è la sensazione. Ora sta per arrivare la season 2, sta per arrivare più o meno, manca tutto settembre ancora, ad inizio ottobre arriverà la season 2, ci è stato comunicato attraverso questo video che ci sarà chiaramente tutta una nuova modalità, che ci saranno delle cose nuove, che probabilmente attraverso piccoli rumor, piccole interviste, piccole cose che si sono lasciate scappare nelle interviste eccetera, che probabilmente ci sarà un world 5, un world level 5, quindi un livello più alto di difficoltà, che effettivamente ci stava e quindi va benissimo, che dovrebbero aver sistemato, comunque che stanno lavorando per sistemare tutto quello che riguarda le resistenze, altre cose importanti e tralasciate che io non capisco come si possa fare nell'idea di un gioco, maledizione, stanno lavorando sul crowd control, adesso ci spostiamo nelle altre schermate, ma prima non dimenticatevi che questo canale porta un sacco di contenuti di tanti giochi diversi, anche uno di cucina, guarda, questo canale sono io tra l'altro, tanti contenuti di tanti giochi diversi, tra cui Genshi, tra cui anche Diablo dove ho fatto un sacco, un sacco di cose per quanto riguarda le build, un sacco di cose per quanto riguarda i dungeon, le stagioni, le informazioni, le news, quindi se volete seguirmi, a voi non costa niente, cliccate su iscriviti e siete a posto, e io invece ci guadagno tantissimo, non di soldi, ma di piacere di fare queste cose, quindi per favore fatelo, mettete like, lasciate un commento, fate lavorare l'algoritmo, perché lui da solo non sta lavorando, grazie davvero se lo farete, perché è un attimo e mi fa tanto tanto felice. In ogni caso, abbiamo, attraverso l'intervista di, questo è Ferguson, vero? Non mi ricordo più. Sì, attraverso di Ferguson abbiamo qualche piccola cosa che adesso andiamo a leggere, abbiamo l'idea dell'inizio della season, che dovrebbe iniziare, come dice qua, Rur Ferguson, esatto, ad inizio ottobre, non si sa bene quando, ma non ci saranno alcune interruzioni. In Diablo 3, e se non ricordo male, ne ho giocate tante di season, ma la mia memoria è sempre terribile, in Diablo 3 c'era un momento di fine della season 12, adesso sono a 29, tipo, e dopo un tot di tempo iniziava la season 13. Adesso invece finirà la season 1 e immediatamente dopo inizierà la season 2. Non so se ci sarà un distacco di poche ore, se sarà un distacco di, che ne so, a mezzanotte, a mezzanotte inizia, finisce quella, non si loga più, log in season 2, quindi ti cancello, ti blocco i personaggi, devi ricrearli, non so come sarà, comunque ce lo diranno, penso, a ridosso dell'uscita, ma non ci dovrebbe essere tempi di attesa. Abbiamo visto che, appunto, ci sono alcune modalità nuove, alcune cose, che poi chiaramente ci faranno vedere nel live streaming che è dedicato alla season, che ci sarà prima dell'uscita della season, ovviamente, quindi un altro Campfire Chat, io immagino sia, e quindi avremo tante informazioni, ma per adesso sappiamo che questa cosa qua finisce, la season dei Malignant finisce il 17 ottobre 2023, quindi subito dopo dovrebbe iniziare l'altra. Vedremo, questo è quello che dicono, io quindi, mi immagino che il 17 ottobre 2023 inizierà anche la season, mi ricordavo prima, mi ricordavo inizio ottobre, proprio i primi, tipo la prima settimana o la seconda, ma vabbè, questo è, e quindi inizieremo con l'altra season, che io comunque voglio giocare, perché a dispetto di tutto quello che si legge in giro, che comunque non è sbagliato, perché è vero lamentarsi di sto gioco, raga, perché ce n'ha troppi di problemi, secondo me è evidente che, maledizione, l'abbiamo fatto uscire almeno un anno prima, al netto di beta, al netto di feedback, al netto di tutto quello che volete, ma hanno, secondo me, esagerato con la questione, tanto lo ripariamo dopo il gioco, perché, maledizione, non va bene, ci sono troppe cose che non funzionano, troppe cose del gioco base, e promuovere, come lo diceva anche Asmongold in un video l'altro giorno, ma in realtà è una cosa che pensiamo tutti da sempre, cioè da un bel po' di tempo, quantomeno, promuovere le migliorie delle resistenze. Adesso le resistenze funzionano, raga, come Nova Future per la season 2, e a me sembra talmente tanto ridicolo che è veramente lo specchio di quello che è il loro comportamento nei confronti dei feedback della community, che comunque stanno ascoltando, perché non è che non li stanno ascoltando, perché pian pianino tutte quelle che sono le lamentele le stanno un attimino riadattando, le stanno a volte anche cambiando, stanno capendo cosa hanno fatto, però è proprio che alcune cose siano partite alla base, cioè con le idee di partenza da quel punto che, secondo me, è poco stimolante nell'idea di crederci a quello che è il loro lavoro in questo periodo, perché avevano delle basi ottime su un lavoro di oltre dieci anni su Diablo 3, e potevano prenderle tranquillamente e riportarle, non dico uno a uno, ma migliorate magari, rispetto a quello che era Diablo 3, invece hanno fatto dei passi indietro, hanno fatto dei passi indietro sul loot system, in un certo senso, hanno fatto dei passi indietro su tantissime cose che avevano già, e funzionavano strabene, perché il problema di Diablo 3 non era certo quelli, Diablo 3 ha avuto dei problemi diversi, dei problemi diversi legati a quello che era la base del gioco, a quello che era l'esperienza visiva del gioco, molto diversa da quello che era il macabro, anche se poi le tematiche erano comunque quelle, perché era tutto più colorato, e quindi la gente, oh mio Dio, che cos'è questa cosa, ma Little Pony, poi i poni c'erano davvero, quindi hanno fatto delle cose che magari non sono piaciute come stile, ma Diablo 3 era Diablo, comunque Diablo 3 era Diablo, al netto di qualche piccola magagna Diablo 3 era Diablo, e lo è stato anche durante le season, tutto sommato. Quindi questo è, in Diablo 4 devono partire da quella base più uno e andare avanti, invece hanno fatto qualcosa di diverso. In ogni caso, in ogni caso, il gioco base, quello che è il gioco, il gameplay, il divertimento nel giocare, io ce l'ho e voglio continuare a giocarci, non smetterò di giocarci perché adesso sono un po' deluso da quello che succede, quindi continuerò anche in season 2. Vi chiedo però una cosa, a tutti voi, non sarete sicuramente tutti, io spero che siate veramente pochissimi, ma tutti coloro che hanno urlato a Baldur's Gate quando è uscito, perché così lasciamo Diablo e giochiamo al vero RPG e la cosa, raga, io non capisco per quale motivo facciate queste associazioni, io vi prego di non farle più. Sono due giochi completamente differenti. Il fatto che abbiano qualche cosa in comune sulla visuale, su alcune cosine eccetera, non vuol dire che siano lo stesso gioco. Baldur's Gate non è un Diablo più più, è un gioco completamente diverso, con un approccio diverso, con funzionalità differenti, con uno stile e con una direzione completamente diversa che si stacca da quello che è Diablo, pur ereditandole magari, anzi, è al contrario, pur ereditando, diciamo, viceversa, qualcosina uno dall'altro perché si parla di qualcosa che magari arriva da D&D, che è anche in Diablo, cose così, per carità. Però sono due giochi diversi e io capisco che voi pensate, che molte persone non sanno cosa sia Baldur's Gate e io non sono un esperto di D&D, quindi sono l'ultimo che vi può parlare di questo, ma il gioco si vede a occhio che è un attimo diverso se hai un minimo di coscienza di quello che è il mondo dei videogiochi, no? Quindi, paragonarli è veramente come dire eh, cavoli, meno male che esce FIFA 24 perché mi sono proprio stufato di giocare Gran Turismo. Cosa? Non la fareste mai in una situazione del genere, quindi smettetela, please, per favore, vi prego, sono due giochi diversi, godetevi entrambi, sono l'ultimo che può criticare Baldur's Gate 3 perché ancora prima non l'ho giocato bene, perché devo ancora cominciarlo praticamente, ho fatto solo un video a riguardo, poi quando avrò tempo lo farò, giocherò un po' di più, ma io che sono appassionato di Tears of the Kingdom, per me è il gioco migliore della vita, ok? O non mi dispiacerebbe se Baldur's Gate 3 vincesse i gotti, per come è stato pensato, per quello che ha come filosofia dietro, per quello che ha fatto l'Arian in generale, quindi, nonostante ciò, sono contento che quel gioco abbia avuto successo e che stia avendo successo, e che stia avendo un eco mediatico incredibile, sono contentissimo ragazzi, ma non è Diablo, sono due giochi diversi, potete paragonare Diablo ai Diablo Like, e si chiamano Diablo Like, perché Diablo ha fatto il genere, punto. Comunque, tralasciando questo piccolo sfogo, scusate dovevo farlo, perché è veramente orribile, quello che si legge sui social, in questo periodo, di gente che chiaramente non sa, cosa sta dicendo, però si deve parlare, perché tanto è giusto così, e me fa proprio arrabbiare sta roba, ma vabbè, a parte questo, tornando al discorso delle patch note, come dicevo, hanno sistemato alcune cose riguardo, anche i crowd control dei nemici, quindi meno male, perché anche questa cosa, secondo me, era da fixare a un pelo prima, ci sono troppi nemici, che fanno troppi crowd control, che staccano anche uno sull'altro, che danno troppo fastidio, che ti rendono impossibile vivere, a meno che tu non abbia qualche classe, e non sono tutte che l'hanno, che abbia l'immunità in un tasto a disposizione, perché non hai detto che tu ce l'abbia, quindi ci sono delle cose che vanno sistemate, ci sono delle robe che sono orrende, ci sono anche delle meccaniche di difficoltà artificiale, che non funzionano bene, sono quelle di Dungeon, io spero che sistemino qualcosina, nel tempo. Nel frattempo, se non avete ancora fatto il 100 con In Diablo 4, sappiate che dall'1 al 5 settembre, c'è un bonus al 25% dell'esperienza, e dei gold nel mondo di gioco, quindi se volete giocare ancora un pochino, perché il 100 non l'avete ancora fatto, e quindi sappiate che dall'1 al 5, c'è questo bonus exp, quindi il 25% non è così male, vi assicuro, quindi se considerate che l'Elysian da 5%, più 25 è tantino, per expare vi garantisco, che non è una brutta cosa, magari un giorno o due me li faccio, perché io ho ancora un negromante da portare su, anche se probabilmente lo ripartirò, ripartirò poi in season 2 con quello, o col mago, o col druido, non so, vediamo, comunque quello farò, e quindi vedremo, ma sapete che c'è sto bonus, detto questo, questa pagina non serve già più, in ogni caso, andiamo a leggerci un attimino, quello che riguarda, le interviste in giro, che hanno fatto a Rod Ferguson, queste sono sostanzialmente, le risposte che ha dato, per quanto riguarda, per quanto riguarda le interviste, ma leggiamoci un attimino, cosa intendono, la scorsa settimana, si è svolta, la Gamescom a Colonia, hanno presentato appunto, la season 2 di Diablo, con un filmato, che abbiamo visto prima, che è questo qua, dove c'erano un paio di cosine, e va bene, abbiamo letto tutte queste interviste, abbiamo raccolto alcune domande, risposte più interessanti, su Diablo 4, discorse alla Gamescom, da TV Movie, la stagione 2 avrà lo scopo, di incoraggiare i nuovi giocatori, a giocare Diablo 4, per la prima volta, oltre ad aggiungere nuovi contenuti, per riportare indietro, i giocatori esistenti, e vabbè, e qua non c'è niente di strano, l'interazione e la trasparenza, con la comunità, saranno migliorate in futuro, speriamo, grazie, perché a quanto pare, per adesso non ci siamo ancora, quindi io direi che sarà, al posto di rispondere, eh le resistenze non funzionano, eh lo so, lo so, e fanno i meme tra di loro, quando sono loro, che hanno creato quella cosa che non funziona, è stato orribile, l'abbiamo visto in un campfire chat, di qualche settimana fa ormai, ed è stato orribile ragazzi, vi giuro, da guardare ero basito, perché diciamo, ma vi si rendono conto, che si stanno prendendo in giro da soli, e che questa cosa non fa ridere nessuno, perché è un dramma all'interno del gioco, però va bene così, non importa, comunque Diablo 4 e Diablo Immortal, sono due giochi diversi, è una coincidenza, che anche la classe di Immortal, sia un vampiro, classe sanguinario, non sarà, non sarà, in Diablo 4, quindi loro hanno fatto la stagione 2 di sangue, ricollegando magari in qualche modo anche la lore, che comunque passa anche attraverso Immortal, perché Immortal è ambientato tra il 2 e il 3, se non ricordo male, quindi non capisco bene dove vogliono andare a parlare con questa cosa, però effettivamente i team di sviluppo hanno lavorato su questa cosa, non si sono mai parlati nella loro esistenza, durante la loro vita, e hanno deciso di aggiungere una classe vampirica, o comunque che si trasforma in Diablo Immortal, mentre in Diablo 4 arriva la stagione del sangue, dei vampiri, ma è una coincidenza. Va bene, non mi aspettavo una nuova classe anche in Diablo 4, me l'aspetto magari fra 2 o 3 stagioni, con l'arrivo di un paladino, o qualcosa della luce, o qualcosa del genere, mi aspetto qualcosa di questo tipo, sicuramente, non mi aspettavo adesso il vampiro anche in Diablo 4, però posso capire che la gente magari dica, raga, ma cavoli, quello tecnicamente è un gioco minore, Diablo 4 è il gioco di punta, e la classe nuova esce lì, e voi fate solo una robina con delle cose del genere, è un po' strano, no? Magari era il tempo di mettere, non so, magari la gente si aspettava una classe nuova ogni season, io non credo che sia una cosa possibile, senza enormi problemi logistici, quindi non vi aspettate una cosa del genere, perché non funziona in questo modo, sicuramente ci saranno magari grosse espansioni per Diablo 4, proprio come Reprof Souls per il 3, come il 2, non mi ricordo più come si chiamava, vabbè, quella lì del 2, comunque Lord of Destruction per il 2, eccetera, quindi va bene, ma non la classina nuova come l'Egromante del 3, che è arrivato a punto 8, come il Corciatore è arrivato con l'espansione, forse con Reaper, non mi ricordo, però quello è, quindi aspettiamoci delle cose nei tempi onesti, nei tempi giusti di un lavoro dietro a un gioco as a service, ok? Perché funziona in questo modo, quindi, ok, sì, anch'io sono un po' deluso, perché dico, cazzo, ma di là c'è la classe nuova, il vampiro, qua c'è, eh, l'idea dei vampiri, ma sono i mostri, tu prendi solo dei poteri, cosa? Vabbè, però magari i poteri sono fighi, vediamo, spero che non siano di nuovo delle gemme da mettere in giro, che diamo solo 3 poterini a caso, perché, un po' non spreco così, se rifanno la stessa cosa con poteri diversi, speriamo che sia qualcosa di differente, che dia dei poteri nuovi, fighi, come si deve, che migliori un'esperienza a tutto tondo, non solo attraverso dei danni che aumentano, ok? Perché è giusto così. Non è previsto alcun reame di prova pubblico, quindi per adesso il PTR non esisterà in Diablo 4, invece gli sviluppatori stanno cercando di migliorare il gioco attraverso la comunicazione e il feedback con la community. Il direttore generale di Diablo 4, Rod Ferguson, ha aggiunto, scusate, che vogliono migliorare il ciclo di feedback, quindi un PTR potrebbe o meno verificarsi in futuro, poiché i PTR possono richiedere molto tempo di sviluppo. Il team afferma che la modalità solo self-found ha richiesto 10 anni in Diablo 3 per essere implementata. Non ricordo cosa sia questa, onestamente, solo self-found, non mi viene nulla, se avete qualcosa da dirmi nei commenti, ditemelo, non mi viene in mente niente, ma è perché non ricordo. Rod Ferguson ha affermato che sono fortunati a poter utilizzare i titoli precedenti di Francesca per vedere cosa ha funzionato e cosa hanno, compresi a Demo Immortal. Raga, dovevate farlo prima però di sviluppare Diablo 4, io ho queste cose qua quando le leggo divento nervoso, maledizione. Adesso, ah già, è vero, si chiama 4 perché prima ce n'erano altre, andiamo a vedere cosa hanno fatto in passato gli altri, ma siete deficienti, scusate, boh, madonna, vabbè, ovviamente è una, sto parafrasando, però porca puttana. Comunque, Screen Rent, progettare una stagione è composta da idee che forniscono, hai tradotto all'inglese, quindi fornisci, diciamo, modi diversi di creare i poteri dei personaggi, no? Quindi modi fantasiosi di elaborare i poteri dei personaggi, delle classi, va bene? Consentire una storia davvero forte e emozionante che possa essere raccontata come parte della stagione. Ok, la storia della prima stagione dei cuori immondi, o come il capo di Abietti, non era granché. Va bene, Conrad, com'è che si chiamava Conrad, non mi ricordo più, il tizio lì, poteva anche essere un personaggio decente, ma nasce e muore lì, non il personaggio, ma come storia, nasce e muore lì, non c'è stato chissà quell'approfondimento, si lega sì e no alla vicenda principale di Lilith e di Narius, e tutto quello che riguarda il casino, quindi ci interessa anche meno, perché finché si vedono Lilith e Narius e lo scontro Inferno Paradiso, dici, oh mio Dio, io sono al mezzo di questa cosa, sono un Nephilim forse, perché non si sa, e quindi, oh mio Dio. Ma quando vedi un personaggio random, che fa delle cose random, che ti fornisce dei poteri, lo prendi come una quest secondaria, e quindi, secondo me, gli dai meno importanza, nonostante ce ne siano alcune secondarie che sono davvero importanti per la vicenda principale, perché collegano alcuni spunti, alcune cose che sono successe con Elias e con il rito, eccetera, eccetera, quindi ci sono alcune cose importanti, però questa io l'ho vissuta un po' meno, un po' meno in modo approfondito, mi interessavano i poteri, leggevo, capivo, però non era niente di super interessante, a parere mio, ditemi voi cosa ne pensate. La stagione 2 includerà nuovi leggendari, nuovi elementi unici e nuovi nemici da combattere, e questo va bene. Abbiamo detto anche, esatto, ci poi ne parliamo, Eris, la protagonista interpretata da Gemma Chan, è un personaggio più freddo e amaro che si riscalda col tempo, perché è una cacciatrice di vampiri che ha aiutato a destrare altre persone a diventare cacciatori di vampiri, ma loro vengono morsi e si rivoltano contro di lei, per questo motivo alla fine finisce per davvero umiliare i suoi amici, vabbè comunque di ammazzarli. Eris non si fida del tutto del giocatore a causa dei poteri vampirici che abbiamo acquisito, ok? Quindi noi dobbiamo avere a che fare con questa Eris, che è una cacciatrice di vampiri, che a sua volta è maestra dell'arte della caccia di vampiri, ma i suoi allievi sono stati trasformati e utilizzano i poteri, si sono rivoltati contro i lei, li hanno dovuti a annichilire in qualche modo, succede lo stesso a noi, però noi siamo qualcosa di diverso, quindi si fida e non si fida, vedremo come va avanti. È interessante la struttura, ma c'è la base della story quest, vedremo come sarà in futuro, perché ci possono essere cose interessanti. Nella prima settimana di ottobre faremo un tuffo davvero profondo nella stagione e nel significato della storia, quali sono tutti i meccanismi, quali sono i poteri da vampiri, eccetera, quindi prima settimana di ottobre ci sarà il Campfire Chat sicuramente con l'arvistream, con tutto quello che riguarda la stagione 2, se ho possibilità, a meno che non sia un orario assurdo, farò direttamente la live su Twitch e riporterò dei video, riporterò un video su YouTube con il riassunto. Se dovesse essere un orario assurdo per poter fare live, farò magari un video riassunto su YouTube, quindi troverete comunque del contenuto sia qui che su Twitch, quindi mi raccomando seguitemi su entrambe le piattaforme se avete piacere di giocare anche in live perché sicuramente in Season 2 giocherò comunque a Diablo 4, nonostante su Twitch non vada bene, mi dispiace, ma è un gioco che voglio giocare, quindi lo giocherò anche in live sicuramente, spero che vogliate giocare anche con me insieme oppure comunque fare da spettatori a quello che sarà l'evoluzione del nostro nuovo personaggio nella Season 2. Quindi, quando inizio a salire di livello, ah no, scusate, quando inizio a salire di livello, da livello 50 al 100 avrai questi punti di contatto, non so come zaino in inglese, in cui metterai davvero alla prova la tua build, metterai alla prova alla potenza del tuo personaggio e così, scaglionato durante la progressione da 50 a 100, i punti essenzialmente contrivati per questi nuovi boss per avere l'opportunità di ottenere oggetti rari come gli unici. Oggetti unici, vabbè. I 5 nuovi boss richiedono una sequenza di passaggi per poterli evocare, non si tratta solo di entrare e uscire, coltivando ripetitutamente i capi, facciamo un'ottima in inglese, perché sennò diventa... Ah, ok, quindi vabbè, vabbè, niente di particolare, era la stessa cosa, non si tratta solo di entrare, cioè non è solo vado all'amazzo, esco, vado all'amazzo, esco, vado all'amazzo, esco, ma c'è qualcosa che serve per evocarli, quindi magari bisogna raccogliere degli oggetti per poter entrare nel coso e evocarli e poi farli fuori, ok, vabbè, può anche starci purché abbia senso farli, ma a me non dispiace dover farmare un materiale per poter evocare un mostro che poi mi dà delle cose specifiche che mi servono per fare qualcosa di unico, effettivamente aumentare il mio potere. In Diablo 3 è successo con gli Uber, dovevi farmare dei cosi da dei mostri in giro per il mondo, questi oggetti li trasformavi per aprire dei portali e andavi ad affrontare gli Uber di Asmodan, no, non è vero, non c'era Asmodan, vabbè, del Rescheletro, di Magda, di Diablo, di Gom, c'erano diverse cose, forse anche Rakanot, sì, e ottenevi poi degli oggetti che potevi trasformare in un anello infernale o un amuleto infernale che davano poteri unici, ci ti davano una passiva leggendaria direttamente nell'amuleto, adesso qua in Diablo 4 funziona già con le passive leggendarie quindi era un pochettino diverso, però in quel caso era una passiva leggendaria unica di quel tipo, quindi molto forte, se funziona in questo modo può anche starci purché siano delle cose utili perché pochissimo tempo dopo quelle cose sono diventate inutili quindi ovviamente devono anche un attimo bilanciarle in modo che siano utili almeno per la stagione 2 che è tutto il tempo che intercorre per quanto riguarda la meccanica nuova e quindi va bene l'idea del modo in cui alcuni dei 5 funzionano è che in realtà fanno affidamento l'uno sull'altro per poter essere avvocati nel mondo ok, quindi ci sarà una sorta di step non ho capito bene questa cosa ma va bene i dettagli che abbiamo sulla stagione 2 sono tutto ciò che è stato condiviso alla Gamescom ma la Blizzard avrà molti più dettagli sono molti più cose sulla quality of life in arrivo va bene questa cosa mi interessa ovviamente vedremo inizio ottobre chiaramente quindi restate collegati GameStar parlando della portata della stagione 2 rispetto alla stagione 1 e se sarà simile gli sviluppatori hanno affermato che non esiste un modello fisso per le stagioni tutto inizia davvero con un'idea e con un tema forte Blizzard vuole che Diablo 4 sia ampiamente accessibile a tutti i tipi di giocatori il che ha rappresentato una sfida e un equilibrio soprattutto quando si aggiungono nuovi contenuti parlando delle funzionalità degli MMO come raid e contenuti di gruppo gli sviluppatori hanno affermato che non c'è nulla da annunciare per adesso ma che cercano sempre di costruire sulle fondamenti Diablo 4 nulla è fuori discussione quindi per adesso nessuna meccanica particolare più verso gli MMO perché Diablo 4 ragazzi non è un MMO toglietevelo dalla testa non so che vi ha messo stai dente non è un MMO nulla da annunciare per quanto riguarda un ulteriore livello mondiale 5 ora di questo se ne è parlato in realtà in qualche altra da qualche altra parte ho visto fuori degli articoli da qualche altra parte dove dicevano che probabilmente in realtà ci stavano pensando e che forse sarebbe stato aggiunto in qualche modo ora io spero di sì perché fermare tutto a 95 secondo me è un po' poco perché annulla la volontà se non per qualche marea infernale se non per qualche world boss perché hai le cose garantite è una cosa o un'altra di andare di nuovo fuori nel mondo e non andare nei dungeon a manetta a manetta a manetta quindi levi proprio completamente dall'equazione l'open world che tu hai creato e secondo me questo è un problema mentre facendo qualcosa tipo world level 5 non arriveresti comunque ad avere il picco di necessità di un glifa magari da ottenere ma sistemando il livello del mostro il livello dei mostri quanto meno quanto meno l'esperienza in termini di esperienze di expert il punto di expert accolti potrebbe essere più interessante e magari di drop rate e magari di cose diverse magari aggiungendo qualcosa di specifico cioè l'endgame davvero sono solo i nightmare dungeon potrebbe funzionare in Diablo 3 ha funzionato ma i nightmare dungeon non sono allo stesso livello dei rift e dei greater rift mi dispiace non lo sono quindi speriamo che col tempo migliorino questa cosa non so se sia effettivamente necessario world level 5 ma lo è per quanto riguarda l'equipaggiamento perché anche quello fa fede a tutto quanto cioè il fatto che noi ci dobbiamo fermare a 820 25 quanto non mi ricordo più il cap o comunque il massimo di quello e non poter salire oltre significa che noi avremo quel livello di forza nei nostri personaggi che arriverà oltretutto a un cap con i punti paragon quindi sarà veramente difficile fare qualcosa in più oltre un certo limite e questo porta i giocatori più fortunati a fermarsi all'80 85 come livello e vedersi non salire più cioè non progredire più quindi da quel momento è solo un muro che devi scavalcare sempre più a fatica contro i mostri che saranno sempre più forti ma tu resterai praticamente sempre uguale questa cosa è veramente bruttina secondo me dal punto di vista del concetto di gioco di ruolo che hanno sempre avuto loro e quindi devono modificarla in qualche modo aumentando l'item level è la cosa principale ovviamente aumentando i poteri leggendari aumentando le cose ma soprattutto con l'incropaggimento che si rafforza le armi che si rafforzano nuovi gradi servono queste cose io spero che lo facciano e che quindi si possa farmare di più perché ci si sposta in una nuova modalità di gioco con un nuovo grado di icono sia ancestrale sarà super mega hyper non lo so però qualcosa deve funzionare altrimenti è un casino altrimenti è un casino col tempo aggiungeranno sempre di più all'open world ma nulla da non c'era un aumento comunque aggiungeranno sempre più cose all'open world nel tempo va bene speriamo che non facciano solo il revamp delle world quest perché così non serve a niente Blizzard vorrà assicurarci di mantenere il regno eterno divertente in cui giocare ma l'attenzione principale è sul regno stagionale va bene hanno detto in passato che per quanto riguarda alcune season se dovessero verificarsi delle robe che sono veramente tanto fighe che non vogliono lasciarle quelle cose potrebbero spostarsi come base di gioco quindi anche nel regno eterno per sempre come meccaniche fisse all'interno del mondo di gioco di Diablo 4 vedremo se nel tempo sarà qualcosa del genere o no comunque è possibile che nel tempo qualche cosa in più rispetto a quello che c'è già adesso le modifiche implementate in precedenza di Blizzard non riguardavano il rallentamento del gioco ma ha aggiunto la possibilità di far brillare altre build in modo che non esistesse un solo modo per giocare con una determinata classe il team è consapevole che ci sono problemi di equilibrio che devono essere affrontati ma vogliono anche assicurarsi che le sfide sembrino tali in modo che tu non debba semplicemente affrontarle continuamente ok parlando di reattività ha anticipato Rod Ferguson che le classifiche sono previste per la stagione 3 ok quindi le classifiche come in Diablo 3 sono previste per la stagione 3 quindi non questa che arriva la prossima ancora arriveranno anche le classifiche quindi avremo modo di guardare magari direttamente i profili delle persone sperando che facciano un buon lavoro perché anche quello è fatto male guardare il profilo delle altre persone è orribile rispetto a Diablo 3 che ha tutte le informazioni lì non c'è niente è terribile però va bene ve l'ho detto passi indietro da giganti proprio comunque arriveranno delle classifiche per la stagione 3 quindi va bene volevamo assicurarci che le classifiche fossero corrette ma sanno ma sanno che sono più importanti per il pubblico degli RPG che il gioco deve essere prima stabilizzato in termini di equilibrio a progettazione corretta delle classifiche va bene dovevi farlo prima dell'uscita non ci sono cose che possano difendere questa roba qua sembra che dicano raga è normale che il gioco venduto a prezzo pieno lo dobbiamo ancora finire e no non funziona così forse funziona così nel 2023 per alcuni ma non per tutti comunque questo è quando gli è stato chiesto quale classi Rod Ferguson vorrebbe vedere personalmente Di Diablo 4 ha detto è un po' un imbroglio è un po' una fregatura perché so qual è la nostra tabella di marcia detto questo a Rod Ferguson è piaciuto molto il fatto che Diablo Mortale aveva giunto una nuova classe sapevano che in Diablo 4 avevano dovuto contenere un misto di omaggio al passato ciò che la gente amava e una svolta al futuro Rod Ferguson sarebbe stato entusiasta di vedere qualcosa di completamente nuovo in Diablo 4 quindi non ci può dire nulla perché se ci dice una classe preferita tra quelle che escono è un leak ufficiale lo maltrattano in azienda quindi meglio di no quando si sceglie una nuova classe da implementare nel gioco si tratta di stili di gioco stili di gioco esaberanno anche le metriche scusate relative a quali stili di gioco non sono attualmente presenti nel gioco quindi chiaramente arriverà la classe con lo scudone che è il paladino o il crociato o il crociadino o il palacciato o l'angelo che cazzo ne so quindi sarà quello e vabbè avremo queste informazioni qua ragazzi non c'è altro io ho fatto un video lunghissimo spero che non vi stia spero di non avervi annoiato in qualche modo ma era veramente un riassunto di tutte le informazioni più alcune cose mie che chiaramente servono perché devo farvi capire che cosa ne penso io del gioco e io sono tanto dispiaciuto da quello che è stata la mia esperienza in Diablo 4 non a livello di gameplay a me il gameplay piace gioco e ci gioco volentieri ma tutto attorno c'erano troppi problemi era veramente un continuo vedere le pareti che crollano tutto attorno a te ed è un grande dispiacere per una saga che adoro non solo a livello di gameplay di classi, di RPG di profondità di GDR che possa avere ma a livello anche di lore di come funziona il mondo di gioco di quali tematiche abbraccia è una saga che amo e mi dà tanto 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 fastidio vederla collassare su se stessa per degli errori a volte da principianti di un team che ha avuto per così tanto tempo le redini del genere ed è veramente un dispiacere detto questo ragazzi io vi saluto vi ringrazio ancora spero che non sia stato noioso lo ripeto lasciate un like mi raccomando ditemi la vostra nei commenti è importantissimo un commentino anche solo con un cuoricino fate qualcosa per l'algoritmo vi prego iscrivetevi se ancora non l'avete fatto seguitemi su Twitch se non mi seguite ancora facciamo i live trovate la scaletta tutte le settimane da questa settimana hanno cominciato a metterle e ci vediamo poi lì o giornate su Discord se volete anche stare con la community mi raccomando perché ci si fanno delle risate buona continuazione e buon farm su quello che resta della season 1 ciao ragazzi ciao